Sabato 5, domenica 6, incontrata a Terra Nova di Rocca Montepiano, sapori e colori tipicamente autunnali con la festa del vino cotto, castagne e sapori d'autunno. Dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia, il borgo si animerà per ospitare i tanti visitatori che arriveranno nel centro della provincia di Chieti. Non solo sapori, anche incontri, dibattiti, animazioni e molto altro ancora, come ci dice Adamo Carulli del comitato organizzatore. Sì, c'è molto altro perché dopo due anni di sacrifici finalmente torniamo con questa rassegna enogastronomica che ha oltre 20 anni dalla sua prima edizione. Poi è nata la festa del vino cotto, l'associazione del vino cotto che ringrazio il suo presidente Conti e il comune di Rocca Montepiano con il suo sindaco Marinelli che hanno sponsorizzato questa iniziativa e che ripropone un prodotto tipico sul territorio ma che ha dentro questa rassegna gastronomica con uno spazio dedicato ai ristoranti del paese il cui principe della tavola sarà proprio il mosto e il vino cotto torna anche con una riflessione appunto sulle aree interne, sui comuni, piccoli comuni, piccoli prodotti, i prodotti di nicchia, la tradizione che in qualche maniera diventa uno spunto per costruire altro. E tutto questo ovviamente si coronerà con un convegno con l'assessore regionale al turismo, da Mario che ringrazio, con i sindaci del comprensorio che costituiscono terra accogliente, appunto un territorio che ospita. Insomma un programma nutrito il 5 e il 6 novembre a Rocca Montepiano. E in più ci sarà poi la presentazione del libro di Gino Bucci, l'abruzzese fuorisede con Rimeto Scibili, ci sarà uno spazio dedicato alla tradizione anche musicale, coreutica, quindi con i balli tradizionali in piazza, la cottura del mosto fatta proprio nella piazza dall'associazione del vino cotto e poi tante associazioni che con luminarie, dolci tipici della tradizione, il vino cotto che ovviamente sarà il tema di questa rassegna, accoglieranno le persone che vorranno visitare in questi giorni di caldo, adesso vediamo il tempo come sarà, ma comunque ci sono tenso strutture che ospiterà tutti quelli che vorranno venire questo fine settimana a Rocca Montepiano in contrada Terra Nova.